A fine dicembre abbiamo riconsegnato alla città Piazzale Rosselli che era il primo stralcio di lavori di Viale Battisti. I lavori invece nei controviali diciamo e nel lungo Viale Battisti lato mare sono proceduti e in questo caso il controviale lato pesero sta per essere terminato per quanto riguarda la pavimentazione in Porfido, manca l'ultimo tratto verso il ponte e successivamente nei prossimi giorni andremo ad installare anche i punti luce che sono esattamente come quelli di Piazzale Rosselli proprio perché devono dialogare con una riqualificazione che attraversa tutto uno spazio diciamo di innesto e di connessione tra mare e città. Nei prossimi giorni partirà anche l'asfaltatura centrostrada che non andrà a modificare quello che è il senso di circolazione senso unico di marcia come appunto sta succedendo questo per poi essere per poi a fine lavori ripristinare il doppio senso di marcia come è originariamente quel Viale. Contemporaneamente dal 5 febbraio credo passiamo poi ai lavori del controviale nel senso di marcia opposto partendo dall'innesto con via Dante Alighieri quindi a salire per riandare a rigenerare anche tutta la nuova pavimentazione, pavimentazione, illuminazione avrà la stessa sequenza della lavorazione attuale per poi terminare alla fine lavori con la posa degli arredi e di tutto quel verde che oggi manca di tutte quelle essenze che renderanno ancora più bello questo spazio quindi come dicevo per maggio dovrebbe essere, fine maggio dovrebbe essere tutto pronto.